Ha sfondato la porta di una chiesa, poi ha tentato di raggiungere il campanile per compiere forse un gesto dimostrativo o non escludono gli inquirenti per gettarsi di sotto, ma non è riuscito nel suo intento e così ha dato in escandescenze al punto che i militari sono dovuti ricorrere anche all'uso del taser, protagonista dell'episodio un turista straniero trentenne in città da alcuni giorni che adesso è stato denunciato per danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale. L'episodio si è consumato sotto gli occhi di vari testimoni nel tardo pomeriggio. Il prima di intervenire è stato il parroco che ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Arezzo che hanno accertato che la porta interna di accesso ad un ufficio era stata colpita a calcio e sfondata con un pugno. L'autore dei danneggiamenti è stato individuato quasi subito all'esterno anche grazie all'aiuto di alcuni testimoni e dopo un breve inseguimento a piedi i carabinieri lo hanno bloccato e portato in caserma. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo prima aveva tentato di aprire varie porte dentro la chiesa poi l'ira si è scatenata quando non è riuscito ad aprire quella di accesso al campanile. Lo straniero in caserma è andato di nuovo in escandescenze ed è iniziato a spintonare con forze militari tanto che sono stati costretti ad usare il taser in dotazione per fermarlo in quanto si stava pericolosamente avvicinando alla finestra. Una volta immobilizzato è stato fatto visitare dai sanitari del 118 è stato poi accompagnato all'ospedale San Donato di Arezzo dove è stato ricoverato.